La regione Liguria in tema di sport, l'assessorato che mi prego di dirigere, svolge alcune funzioni fondamentali per i nostri ragazzi, per le tantissime società sportive, circa 3.000 che sono sul nostro territorio. Innanzitutto la regione Liguria ha come scopo principale quello di favorire la creazione di nuovi impianti sportivi, di favorire la ristrutturazione, il completamento, quindi per dare la possibilità appunto alla società sportiva di svolgere l'attività sportiva in impianti adeguati, sicuri, moderni e insomma diretti verso il migliore utilizzo possibile. Quest'anno l'ente ha deciso di investire molti soldi sull'impiantistica sportiva, 2 milioni di euro, dando a contributo perso il 30%, quindi pensiamo al regime di poter fare investimenti di circa 6 milioni di euro su tutto il nostro territorio. Considerato che le domande che da parecchi anni giungono al nostro ente per la ristrutturazione degli impianti sportivi sono complessivamente di 6 milioni e mezzo, con questa operazione, grande operazione di sviluppo, pensiamo di poter modernare in un colpo solo gli impianti sportivi nella nostra regione.